In archivio, a scuola, per confrontarsi con le fonti, interpretare piante, mappe, consultare documenti, lettere, cronache, regolamenti, avvisi pubblici, tutto questo per aprire la mente e il cuore a uno straordinario bene culturale. Archivio storico comunale che ci ha permesso di ricostruire la storia della scuola Matteo Maria Boiardo. Per me questo lavoro è stato molto divertente, mi ha aiutato a vedere la scuola con occhi diversi. È come un edificio con una storia nuova, tutta da scoprire, interpretata per la prima volta da noi.